ciao sono andrea casini mi riconosci vero per forza vogliamo parlare della tua vecchia caldaia ce l'hai sempre qui nel cuore che devi sostituirla costa cara costa qua costa la noi se la possiamo sostituire 1.490 euro montata iva compresa caldaia a condensazione abbiamo le migliori marche a livello europeo le puoi pagare come vuoi vuoi sapere la rata vuoi sapere quanto puoi spendere ti va bene 17 euro e 50 al mese non penso che ti distruggerà la vita a 17 euro e 50 al mese noi ti montiamo installata senza nessun anticipo installata iva compresa 1.490 euro devi soltanto chiamarmi caldaia a condensazione primaria fabbrica mondiale chiamami